Ciao 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 ciao! Allora oggi alle 21 inizia lo Svitalent, quindi talenti talenti, ci sarà la prima puntata delle audizioni. Giudici sono io, Carlo Neux e Brain4Game e abbiamo già delle persone in scaletta che si sono prenotate e quindi ci sarà Primo Giuseppe, Secondo Angelo, Terzo GD e Quarto Marte. Mi raccomando, dato che vi siete prenotati, mi raccomando perché vi aspetto, vi aspetto. Vi dico, lo live di oggi durerà due ore, dalle 9 alle 11, le puntate di audizioni saranno tre e quindi quelli che non entrano oggi tranquilli che le prossime audizioni li selezioneremo. Per chi non sa più se cos'è lo Svitalent, insomma, la gente entra, può cantare, suonare, recitare, fare cose divertenti. Insomma, mostrateci il talento che avete. Ci vediamo in live stasera alle ore 21 con la prima puntata della seconda edizione dello Svitalent. Sì, perché questa è la seconda edizione. E vai, si inizia oggi! E vai! Svitalent inizia stasera! Siete carichi, dai! Ciao, 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 ciao!